Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Gabriele! Che ti va? Sei molto bella! Hai già visto il palco? Claire! Sì! Il vostro palco! Che figata! Vi piace? Che bella! È bellissimo! Prendete confidenza, è qui che vi esibirete! Vi voglio sul pezzo! Perfetto! Direi che ci siamo! Manca solo un amplificatore qui! Accidenti! Quanti fili! Arthur, passami quel cavo! Quale? Questo? No, l'altro! Hai visto quanto spazio? È tantissimo! Se penso a quel prato tutto pieno, mi viene un colpo! Wow! Che bello! Ci divertiremo! Vedrete! Sì! 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 Sì!